Ben 74 associati dell'Unitalsi sono saliti a bordo delle 46 vetture di interesse storico tesserate al Veteran Motor Club, presieduto da Pippo Mangione. I partecipanti si sono dati appuntamento ieri mattina al cartodromo internazionale di Contrada Zai, richiamando l'attenzione di molti appassionati delle autovetture d'epoca e di semplici curiosi. A dare il via al raduno motoristico è stato Don Rosario Sciacca, che ha dato assistenza spirituale e benedizione agli equipaggi. Anche quest'anno siamo riusciti a organizzare questo evento, per noi è molto importante, ma anche per i ragazzi, è una giornata diversa, è una giornata particolare, per loro è un motivo di gioia. È un po' di tempo che vengo qua, non ho mancato mai, soprattutto per dare un vero sorriso a questi ragazzi, che quando vengo qua il cuore mi esalta e cerco di renderli felici facendo un giro con le nostre auto storiche. Sotto lo sguardo attento del direttivo della sezione Sicilio Orientale Unitalsi, presiduta da Giuseppe Fedele, i ragazzi associati sono saliti a bordo delle autovetture di interesse storico, rinnovando il raduno solidale. Quest'anno è il sedicesimo anno della manifestazione di solidarietà e regala un sorriso. Lo slogan di oggi è più gioia nel dare che nel ricevere, questo è lo slogan che ci aiuta a affrontare questa giornata, dove grazie agli amici del Vetra Motor Club e riusciamo a fare passare qualche ora ai nostri ragazzi diversamente abili che hanno la possibilità, anche attraverso le auto d'epoca, di fare un giro qua al Cartodomo. Non soltanto gli uomini alla guida delle macchine d'epoca. Io sono un po' fissata con questa macchina, si può dire che ci sono nata perché era di mio papà e ho avuto tanto piacere a riprenderla perché era veramente in condizioni pietose. E sono riuscita a rimetterla a nuovo. Cosa le sta lasciando questa giornata? Guardi, è la terza giornata che mi faccio in questa maniera e le dico che è molto piacevole, nel senso che dai una giornata diversa alle persone che sono diverse da noi. Ed è un piacere. Tanta la gioia sui volti dei ragazzi diversamente abili che hanno potuto fare un giro di pista del KIG a bordo delle auto d'epoca. Ti sta piacendo la giornata? Sì, oggi è bellissima. Questa è la prima volta che faccio questa esperienza. Sono felice con questa macchina. Oggi ricordo dei miei compagni di scuola perché oggi sono ammazzonato. Non è la prima volta. Proviamo ogni anno questa emozione grazie al Motor Club e all'Unitalsi. Oggi farete un giro sulla pista del cartodromo. Il cartodromo che in effetti non avevo provato mai e questa è la bella occasione per farla. Una bella emozione oggi? Sì, bellissima. Hai voglia che emozione. Una giornata particolare. Me la sono scelta, l'ho vista da sola e gli ho detto ma sei sola? Dice sì, sono sola, allora ti prendo io.